Tante emozioni da esprimere che necessitano occasioni e luoghi per farlo. A questa esigenza dei giovani van contro TAG, tracce d'arte giovanile. Il progetto, proposto dall'Informa Giovani di Gubbio, è patrocinato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cultura, giunto ormai alla non-edizione, che mira a mettere in mostra il talento dei giovani artisti. Alla Biblioteca Spirelliana è stato presentato l'esito del bando e le opere vincitrici nelle due categorie, la street art e le arti figurative. Anche quest'anno, orgoglio e soddisfazione, ma anche commozione, sono stati espressi dall'amministrazione comunale con il sindaco Filippo Stirati e l'assessore alle Politiche Giovanili, Simona Minelli. Ho partecipato quest'anno dieci ragazzi e hanno partecipato con delle proposte per le due sezioni che c'erano nel bando ed era questa una delle novità. Avevamo la sezione per la street art dedicata alla street art e un'altra sezione dedicata alle arti visive. Quest'anno non collegata dei luoghi, quindi i ragazzi che hanno partecipato hanno avuto anche la facoltà di proporre dei luoghi da rivalutare nella nostra città. Sono stati selezionati quattro progetti, uno per la street art e tre per la sezione arti visive. Sono tutti a gubbio perché c'era anche la possibilità di partecipare con dei progetti per la zona sociale 7. La nuova edizione ha molte parti che vanno in continuità con le edizioni precedenti, ma con la nuova edizione abbiamo cercato di svincolare un po' il bando dai luoghi e speriamo per i prossimi anni anche di ampliare. Cavallo da battaglia di Carlo Antonio Cianculli è un'opera aperta che denuncia la guerra e rappresenta un cavallo sull'orlo del baratro abbattuto nel corso di un conflitto. Questo è stato realizzato attraverso una tecnica mista e sarà esposto negli spazi della biblioteca speriliana. L'opera Free Love di Edoardo Pambianco, collocata nella scala di accesso ai bagni pubblici di piazza San Giovanni, simboleggia Eros, l'amore in tutte le sue forme ed è il risultato di spray acrilici su parete. Piantala è invece il titolo dell'opera ambientalista e il messaggio di Lupita Pasta Cantilli che ha voluto creare uno spazio espressivo utilizzando un foglio di carta riciclata e dei semi selezionati. L'idea alla base dell'opera è che le persone dopo aver utilizzato il foglio lo possano strappare e piantare nel terreno per permettere ai semi di germogliare e crescere. Ultima opera premiata si intitola Biofilia urbana ad indicare lo stretto legame tra uomo e natura. Cabo, l'artista che l'ha realizzata, ha scelto una tecnica mista di spray e vernici per abbellire il cavalcavia di Via Perugina. Le quattro opere saranno inserite all'interno di un piccolo libro che vuole raccontare la storia del progetto e l'esperienza creativa dei ragazzi che ne hanno fatto parte.